Survey Razer, la rivoluzione del Customer Care. Offri ai tuoi clienti un servizio di assistenza innovativo. Scegli Survey Razer, l'applicazione mobile per il Customer Care. Abbatte i costi e fornisce ai tuoi clienti risposte immediate ed efficaci. E tutto questo in tre semplici passaggi. Step 1. Il tuo cliente scarica l'app Survey Razer con il tuo marchio e le tue indicazioni per risolvere ogni tipo di richiesta. Step 2. Il tuo cliente potrà gestire da solo i suoi dubbi, richieste di assistenza, informazioni, seguendo sull'app un percorso automatico, semplice e interattivo. Step 3. Se il tuo cliente avrà bisogno di ulteriori informazioni, potrà contattare direttamente dall'app il servizio clienti, il quale già saprà quale percorso ha seguito, abbattendo il tempo medio di conversazione e fidelizzandolo. Inoltre, avrai la possibilità di sapere cosa i tuoi clienti chiedono e di agire prontamente, attivando notifiche push anche di tipo commerciale, rendendo il servizio clienti un centro produttivo. Survey Razer. Il customer care a portata di smartphone.